Lotta alla plastica monouso e sicurezza dei lavoratori al centro dei provvedimenti adottati nell'ultima giunta regionale e illustrati in un briefing dal presidente Rossi. Sul primo fronte, la Toscana ha approvato una delibera che indirizza Estar, DSU e gli altri enti regionali verso l'eliminazione dalle mense universitarie e ospedaliere della plastica monouso, tazze, contenitori per alimenti e imballaggi, dal primo ottobre. Rossi ha anche annunciato di voler collaborare con la Corsica per sollecitare i governi a tenere pulito lo specchio di mare condiviso, in cui la plastica è comunque al di sotto dei parametri limite europei, dalle isole flottanti di rifiuti anche con una nave apposita. Il nostro Lamma può seguire la formazione di queste isole, seguendo la formazione, lo sviluppo delle correnti, dal satellite questo si può verificare e quindi noi ci batteremo perché non solo si intervenga come abbiamo fatto finora con la pesca, con i pescatori, non solo perché ringrazio i balneari, i titolari degli stabilimenti balneari per l'accordo che abbiamo firmato, per non portare plastica e rifiuti sulle spiagge, ma perché si possa intervenire anche sullo specchio di mare che abbiamo davanti per mantenerlo pulito. Con i propri provvedimenti la Regione ha anticipato il limite fissato dall'Europa alla fine del 2021 per l'eliminazione della plastica monouso. Abbiamo bisogno proprio di una strategia che si comporrà anche nei prossimi passi di iniziative rivolte al recupero delle bottigliette di plastica che non sono vietate ma per le quali l'Europa apre a un reciclo, un riutilizzo di materiale proprio per riprodurre nuove bottigliette di plastica e quindi una strategia complessiva che vede la Regione come attore principale in tante direzioni per aggiungere quegli obiettivi che la comunità europea ci impone su un tema, devo dire, di stringente attualità. Nel corso del briefing sono state illustrate anche le tre delibere che mettono a disposizione 6 milioni di euro per erogare prestiti a tasso zero alle imprese per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori, 3 milioni per le imprese e i liberi professionisti attivi nei porti commerciali di Carrara, Livorno e Piombino, un milione e mezzo per le micro, piccole e medie imprese della logistica e un milione e mezzo per edilizia e cantieristica navale. Gli investimenti da 40 mila a 200 mila euro dovranno utilizzare tecnologie come fotonica e nanotecnologie, fabbrica intelligente e industria 4.0. Presto ci saranno i bandi.